Il pensiero di aiutare, formare e crescere il giovane portiere parte da molto lontano, più precisamente da quando ero un giovane portiere professionista che ha dovuto fare conti con la realtà di vedere il suo sogno infrangersi davanti agli occhi. Passato dal professionismo al dilettantismo, mi sono trovato di fronte alla mancanza di preparatori dei portieri e società non in grado di crescere un giovane portiere in quanto considerato un solo accessorio della squadra. Per questo motivo ho fatto della mia esperienza personale la mia missione di vita, cioè studiare un metodo di allenamento atto a crescere i ragazzi sotto l'aspetto caratteriale prima di tutto e poi tecnico. Questo per aiutarli una volta per tutte a condurre la loro vita con coraggio e con una leadership vincente. Scopri come centinaia di genitori soddisfatti oggi stanno vedendo i loro figli diventare forti e sicuri come dei veri numeri uno. Grazie a tutti.